In Italia ci sono 14 milioni e mezzo di over 65 con patologie varie tra cui il diabete e l'ipertensione. In che modo la compagnia di un cucciolo di cane o di gatto può migliorare la salute degli anziani? Noi pensiamo che l'obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale sia quello di tenere in buona salute il più a lungo possibile tutti i cittadini, a maggior ragione ovviamente quelli più anziani, quindi pensiamo che si possa essere una terza età fatta in buona salute. I problemi che più riscontriamo tra gli anziani sono appunto quelli della solitudine e della sedentarietà. La solitudine è un grande problema perché poi questa condizione determina anche l'insorgenza di alcune patologie come l'ansia, la depressione, la voglia di non far più nulla. E qui questa iniziativa sicuramente è un'iniziativa straordinaria perché gli animali sono capaci di dare un grandissimo affetto ai propri padroni e riescono ad essere, come dire, di grande compagnia. E quindi questo può già stimolare il cittadino ad accudirli, ad essere loro vicini, a prendersi cura. E quindi un forte stimolo anche a produrre una serie di movimenti. E poi il fatto di doverli accudire ovviamente comporta anche un'attività fisica, anche portarlo fuori a spasso, il cane e così via. E quindi l'obiettivo che noi ci eravamo posti, che era quello dello stile di vita diverso dalla sedentarietà, combattere la sedentarietà per rimettere in moto il sistema cardiovascolare e quindi migliorare anche le condizioni di salute, indirettamente è sollecitato e viene in qualche maniera, non dico risolto, ma sicuramente molto sollecitato. 8 milioni di over 65 soffrono di ipertensione. Quanto può aiutare la compagnia di un animale nel sistemare i valori della pressione arteriosa nell'anziano? Può contribuire in maniera importante, non è certo la cura definitiva, ma fa guadagnare qualche millimero di mercurio che porta soltanto salute. Le evidenze da questo punto di vista sono assolutamente confortanti. La presenza a casa di un animale, che sia un cane o che sia un gatto, condiziona comunque una riduzione di qualche millimero di mercurio della pressione arteriosa. Può essere variabile da persona a persona, ma il dato fondamentale è che interagire con un animale crea un rapporto empatico che tutto sommato tranquillizza il paziente e questo già serve a ridurre un po' la pressione arteriosa. Altro elemento, se si tratta di un cane e quindi necessità di portarla a passeggio, aiuta a fare quell'attività fisica che è codificata con un intervento assolutamente fondamentale per ridurre la pressione arteriosa. Quindi certamente è una risorsa, potremmo definirla terapeutica, che costa nulla, fa soltanto bene e che aiuta a controllare la pressione arteriosa. Per la festa dei nonni di quest'anno la campagna è Adotta un cucciolo ritrova la salute. Qual è l'obiettivo e come si svolge? L'obiettivo è quello di festeggiare per 365 giorni tutti i nonni italiani. La campagna Adotta un cucciolo è per farli stare in compagnia se sono soli oppure per un gatto per gli ipertesi o un cagnolino per i diabetici. Questo hanno visto che la comunità scientifica ha provato e certificato che non è che gli va via l'ipertensione e il diabete, ma sicuramente gli eliminerà una serie di effetti collaterali delle loro patologie. L'osservatorio dello sport colloca al ventunesimo posto l'Italia, che quindi non è proprio campione di movimento per quanto riguarda la popolazione. In che modo, che relazione c'è anche la vostra esperienza tra attività sportiva e animali? Ma innanzitutto lei ha toccato un elemento fondamentale. Noi siamo campioni in tanti sport, ma pecchiamo ancora nella promozione sportiva. Quindi quello che dobbiamo fare è coinvolgere di più i giovani affinché si avvicinano ovviamente allo sport dilettantistico. Poi tra i tanti giovani uscirà anche il campione. Nel merito della promozione sportiva noi cerchiamo di coinvolgere anche, attraverso come raccontavo anche prima, gli interventi assistiti con animali, gli animali, che sono un elemento fondamentale sia per gli interventi socio-sanitari, ma anche per la componente affettiva. Lavoriamo con dei corsi di formazione per preparare dei tecnici specializzati e per utilizzare prevalentemente i cani e i cavalli. Anche gli asini, che sono riconosciuti gli animali che riescono ad avere e sviluppare un rapporto emotivo più forte con l'uomo. Ma ci fa qualche esempio di questi interventi assistiti sport e animale? Ma ad esempio voglio dire nei confronti dei ragazzi che hanno dei disturbi. Noi sappiamo ad esempio che quella che veniva chiamata prima ipoterapia è un elemento fondamentale perché riesce a trasferire, in questo caso il ragazzo, la persona, un trasferimento emotivo che a volte non riesce ad esserci tra uomo e uomo. Tale per cui affezionarsi ad un animale più semplice, aprirsi ad un animale più semplice, occuparsi, preoccuparsi di un animale più semplice che occuparsi e preoccuparsi di un uomo. Grazie, grazie mille. Prego a lei.